Quali sono le iniziative urgenti che l'amministrazione comunale di Gela intende adottare per risolvere i problemi che interessano il parcheggio Arena, rimasto al buio e completamente inutilizzabile? E' la domanda posta dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso. Il parcheggio, sostengono i due esponenti politici, rappresenta l'ennesimo spreco di denaro pubblico, costata 3 milioni di euro. L'opera non è utilizzata. Il parcheggio Arena è utilizzato soltanto al 30%, quindi il 70% si trova in uno stato di degrado e abbandono. L'amministrazione comunale dovrebbe, secondo me, innanzitutto migliorare e investire sul ripristino di tutto il parcheggio, renderlo agibile, far funzionare quello che è anche l'ascensore e in modo che possa essere collegato quello che è il lungomare con il centro storico e l'utilizzo completo di tutto il parcheggio. Così come aveva detto in campagna elettorale. Per Reset 4.0 serve una strategia e un buon governo. Non servono le promesse elettorali, prive di contenuti. Allo stato attuale l'amministrazione 5 Stelle non ha nessuna responsabilità, se non quella dell'immobilismo. Cioè nel senso, questo abbiamo ereditato dalla vecchia amministrazione e questo è ancora rimasto. Noi auspichiamo che la nuova amministrazione, così come ha detto in campagna elettorale, possa affidare questo servizio a lungo termine e farlo così come ha detto magari alla Ghelas Multiservizi, così da dare il lavoro a questi addetti in modo definitivo, così da dare un utilizzo definitivo di questi due parcheggi, visto che ora deve nascere a Capo Soprano la cittadella della salute, quindi io penso che sia determinante l'utilizzo del parcheggio di Capo Soprano. Il far funzionare correttamente, probabilmente possiamo determinare sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale, l'utilizzo del centro storico come area naturalmente dove poter passeggiare e lungomare, poter fare l'isola pedonale d'estate e quindi avere il parcheggio completamente ristrutturato, adeguato e utilizzato dai nostri cittadini. La vostra, se vogliamo, non è una bacchettata ma è una critica costruttiva. Sì, la nostra è una critica costruttiva, siamo inizio consigliatura, fare questo significa dare una prospettiva alla nostra città e far utilizzare a meglio le risorse economiche che ci sono.